questo laghetto di pesca sportiva selvazzano ha compiuto 50 anni il 25 aprile 2018 chi è che frequenta un luogo così particolare in tutti quanti le famiglie famiglie sabato domenica e durante la settimana pescatori giovani anziani la stagione nostra comincia ottobre e finisce a maggio quando c'è la possibilità di rilasciare trote durante il periodo estivo si rilasciano carpe storioni persici ammur tutto pesce estivo quindi sempre aperto quanto sempre aperto tutto l'anno preso qualcosa oggi il pesce gatto sento visto tanti bambini qua pescare si spera sempre un ricambio generazionale grazie adriano buongiorno mattina